Merito di Portosalvo, convocato dal neosindaco Gesualdo Costantino e primo consiglio comunale. Dopo il veredetto delle urne e da pochi giorni dalla proclamazione e dall'insediamento, il neosindaco di Melito, dottor Gesualdo Costantino, che nel frattempo ha dato inizio alla sua esperienza di capo dell'amministrazione comunale, entrando in contatto con la macchina burocratica e con i problemi quotidiani, ha convocato il primo consiglio comunale, all'ordine del giorno della prima riunione consigliare dell'era Costantino, convocata per venerdì 25 maggio alle ore 16, che si terrà presso la Sala delle Aduranze del Comune e il giuramento del sindaco e l'esame delle condizioni di elegibilità e di compatibilità del sindaco, eletto direttamente e dei consiglieri comunali. L'elezione poi del Presidente e Vicepresidente del Consiglio, la comunicazione da parte del sindaco della nomina dei componenti della giunta comunale unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, la discussione sugli indirizzi generali di governo, la nomina dei componenti della Commissione elettorale comunale in esito alle elezioni del 6 e 7 maggio 2012, la nomina dei componenti della prima commissione consigliare politica sociale e sociale del lavoro, nomina componente della Commissione comunale dopodomastica in esito sempre alle elezioni del 6 e 7 maggio 2012. Il Consiglio comunale di venerdì 25 maggio fa calare definitivamente il sipario sulla campagna elettorale, inizia una nuova era, non escluso nelle prossime ore una conferenza stampa per presentare la nuova giunta.